Mauro Sciulli è al secondo mandato come presidente del Comitato Paralimpico Abruzzo. Tante idee, tanti obiettivi, innanzitutto le prime sensazioni dopo questa rielezione. Proprio ieri sera, nella prima aggiunta utile di questo nuovo quadriennio, ho ringraziato chiaramente chi ha confermato la fiducia e chi invece è subentrato nel discorso paralimpico della nostra famiglia, che ritengo veramente forte, una realtà sportiva interessantissima, rivoluzionaria nel sistema culturale, sociale e sportivo italiano. Sono entusiasta che sono stato riconfermato all'unanimità e questo sicuramente conferma il lavoro ben fatto in questo quadriennio che si è appena chiuso. Il lavoro che ci attende sicuramente è complesso, difficile in salita, perché condizionato da questa condizione pandemica che, ahimè, ahi noi, nell'ultimo anno sta veramente rivoluzionando in maniera negativa tutto il sistema sportivo e ben oltre. Mi auguro che con questa aggiunta, composta particolarmente da persone nuove, professionisti, addetti lavori, anche giovani, possa essere il giusto modo e strumento per valorizzare il sistema e il movimento sportivo paralimpico. Si guarda a Tokyo, alle Paralimpiadi, ci saranno due abruzzesi, addesi e pizzi. Sì, esattamente. La speranza innanzitutto è quella che l'Olimpiade venga svolta. Ad oggi sembra che ci siano tutti i presupposti, chiaramente seguendo un protocollo ben chiaro. Sono due gli atleti, i abruzzesi, che rappresenteranno chiaramente l'Abruzzo e l'Italia nelle Paralimpiadi di Tokyo dal 25 di agosto e sono Pierpaola Desi e Pizzi. Chiaramente è ancora aperto uno slot per un'atleta paralimpica. Sembrerebbe che abbiamo una terza atleta senza far nomi, che avrà modo e possibilità di potersi ancora qualificare. Ci auguriamo che lo potrà fare nei prossimi eventi che sono in programma.